Il piano economico finanziario del nuovo servizio rifiuti che ha visto la luce ieri mattina sarà la chiave di volta dell'avvio del rapporto con l'inausi impianti SRR che si occuperà delle attività. Si mette fine al decennio Tecra andato avanti quasi esclusivamente in proroga mentre in consiglio comunale arrivava il sofferto voto favorevole al PEF. Il CDA della SRR4 preseduto dal sindaco di Mazzarino Vincenzo Marino ha deliberato che in città e a piazza Armerina già prima dell'avvio ufficiale si procederà con un periodo di pulizia straordinaria questo avverrà però non appena sarà siglato il contratto attuativo lo spiega il presidente Marino che ha concordato l'intervento con il manager di impianti Giovanna Picone. Si procederà con interventi di pulizia straordinaria già prima dell'avvio vero e proprio del servizio. Oggi proprio in municipio a Mazzarino i vertici delle due società si confronteranno con le organizzazioni sindacali per la procedura di assorbimento diretto dei lavoratori della raccolta rifiuti. La clausola sociale è l'opzione ormai fatta propria da SRR e impianti SRR che in questo modo potranno assumere i lavoratori che già si occupano del servizio nei comuni dell'ambito e quelli di Gela che attendono il passaggio definitivo. Intanto per due anni andrà avanti in via a sperimentare l'attività che consentirà ad impianti SRR di operare sia come centrale unica di committenza che come società per la riscossione dei tributi. Sarà necessario un percorso di formazione dei dipendenti, aggiunge Marino. C'è comunque fiducia anche rispetto a soluzioni che possono favorire i comuni dell'ambito e l'accelerità delle procedure. La prossima settimana inoltre si terrà l'assemblea dei soci per rinnovare gli organismi tecnici e di controllo.